Triefe a tutti, sono Zuriprofevitaliana e oggi parleremo delle missioni di Fortnite. Scommetto che tutti voi giocate a Fortnite, o almeno lo seguite se siete in questo video. Ormai la settimana 9 è cominciata e anche questa settimana ci propone nuove missioni e alcune di queste possono sembrare un po' più difficili delle altre. Per questo oggi vi spiegherò come completare la missione della mappa trovata a Putriropantano. Sicuramente non andrò a Putriropantano per mostrarvi dove si trova la mappa, ma ve la metterò qua in schermo per vedere almeno cosa rappresenta. Sulla mappa, se avete presente, c'è quella casettina circondata dagli alberi che formano un triangolo. Percorrendo un po' di strada da quegli alberi che formano un triangolo, troverete delle casette vicino a Corso Commercio. Il simbolino che uscirà per completare la missione si trova appunto in una di quelle casette che vedete qua nel video sopra ai camini. Ok ragazzi, grazie per esservi iscritti al canale che abbiamo superato da poco i 90.000 iscritti. Volevo ringraziarvi tantissimo. Io ti siamo veramente felicissimi e a 100k pensavamo anche di fare una specie di incontro. Spero di vedervi presto. Vi ricordo anche di passare su tutti i nostri social, Instagram, nostro, del canale, che vi teniamo sempre aggiornati, è molto importante per noi. E fatemi sapere anche con un commentino cosa ne pensate di questa missione e se avete già cominciato a farle. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video su Fortnite. Ciao!